Il concerto che abbiamo ascoltato del maestro Pedrin è stato un episodio di grande intensità. I luoghi del lavoro, i luoghi dell'impresa, i luoghi della cultura. C'è una lunga storia milanese che mette insieme tutto questo. Penso al concerto fatto da John Cage nel Centro Culturale Pirelli nel 1954. Oggi abbiamo ripetuto questa iniziativa. La musica è uno straordinario contenitore di emozioni, di fantasie, di costruzioni che se ne vanno nell'aria e sono sempre nuove, sempre inedite, sempre capaci di suscitare emozioni. Da questo punto di vista sono il punto più alto della creatività.